Eee what's up tutti ciurme e benvenuti da giocherini in questo nuovissimo episodio su The Walking Dead Final Season Probabilmente ragazzi questo sarà l'ultimo video sul secondo episodio e udite udite è stata finalmente reso ufficiale la notizia che saranno ultimati e completati gli ultimi due episodi di questa Final Season quindi la Telltale insomma ha trovato qualcuno che gli aiuterà soltanto perlomeno a finire ragazzi questa ultima stagione per fortuna le nostre preghiere sono state ascoltate ragazzi riusciremo almeno a vedere la fine di questa storia che era quello che più ci premeva effettivamente non perdiamo più tempo ragazzi andiamo a continuare l'ultima volta eravamo arrivati al punto in cui ragazzi i predoni sono arrivati dobbiamo vedere che cosa succederà adesso ho un po' di timore effettivamente perché ragazzi quando succedono questi casini poi le cose non vanno mai a finire molto bene effettivamente e ci rimette sempre le penne qualcuno questo è poco ma sicuro per cui ho tanta paura di quello che potrà succedere adesso e quello che ci tocca ci siamo grazie credo credo proteggietevi abiccieni da Oh no Dai Via via Che cavolo ragazzi però Eccola là Lo sapevo Adesso vorrei vendicarsi ragazzi Porca vacca Pure e ciao Va bene Mi spiace molto ragazzi davvero Ok Cerchiamo di Fare bene tutto quello che ci viene detto di fare Ragazzi non vorrei sbagliare In questi casi È fondamentale Rimanere concentrati Eccola qua Non avevamo immaginato ragazzi Che sarebbe venuto a vendicarsi Madre mia Fatevi sentire ragazzi Sarà un grosso casino Scordatela Scordatela Via 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 Nascondetemi Lili non ha letto quello che c'era Prendetemi 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 Non parlare di Non parlare di lui Non pronunciare il suo nome Madonna Speriamo funzioni Prendetemi Prendetemi Prendete Non credetemi Non credetemi No no Magari è solo una scusa Ten non ascoltarla No Porca vacca Ha funzionato davvero Davvero Grande Amici Forza ragazzi Forza Minchia Merda Merda L'ho mancata Ma dai Porca vacca Aspetta 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 Mitch No Ma perché Non è giusto Forza Forza Via Minchia Ti ammazzerò Ti ammazzerò Prima o poi Alla fine Mi ero affezionata Comunque Perché C'è Ci aveva perdonato Capite C'è Aveva cambiato Atteggiamento Con noi Sapevo Oddio Vediamo se Sto tronco Funziona Speriamo Speriamo bene Vai Minchia Ha funzionato Per una persona C'aveva ragione Minchia Che cattiva Mi ammazzerò Uno a uno Se non Se non ve ne andate Gribbio Vai Muori Oddio Era il sogno Il sogno Il sogno di Clementine Che aveva sognato Che andava Tutto a fuoco Con piacere Con piacere Aia La concia Tu madre Ho sbagliato Minchia Ti ammazzerò Eh Ecco Sì pure tu Distraiti Porca vacca Aia Madonna Madonna Te lo picco in un occhio Dio santo Minchia Minchia Stavolta Ti ammazzo Davvero Eh Piano Piano Eh Piano Merda Merda E morirò Così impari Stronzo Ci vediamo All'inferno Stronza Oh Oddio 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 Oh Eh Molla Minchia Sto stranzo Non muore mai Mori Madonna Non fate del male al cane, eh Oddio Oh, mallala Oddio, no Ragazzi, che sta succedendo? Che è un disastro Oddio, no, devo scegliere No, no, no Non mi fate scegliere Sto punto, cioè, non lo so, ragazzi Violet se la portano via Comunque probabilmente vivrà Luis se continua a combattere Non so se lo ammazzano In ogni caso mi dispiace nell'anima Che la portino via, eh Odio dover fare ste scelte Lo odio Mi dispiace, vai Mi dispiace Mi dispiace tanto Cavolo, ma quanti ne han presi? Lili ti ammazzerò Ti ucciderò Ti ucciderò Non so che è un casino Oh, merda, raga Non ce la farò mai Madonna, ce n'era uno qua Non l'avevo molto visto Ok Ok C'è un altro qua Oh, oh, oh Non arriva veloce questo Oh Porca vacca E mori, va a fa Porca Che palle Che palle Cavolo Ok Oh Attenti, raga Attenti Attenti Merda Merda Questo posto è invivibile ormai, eh Invivibile davvero Oh, merda Ok Davanti così Forza Un altro Forza Merda Come arriva questo Ok E' un casino ormai Mi sono riuscita a salvarli, ragazzi Non ci sono riuscita Quim I I'm sorry For trusting her God Asim Omar They're just Gone And Violet I never thought someone would get her Non so We're going after them How? We still don't know where they are Or how many Well We've got someone who does Ah Non è morto, eh Non è morto Meno male ragazzi Meno male che ho finito l'episodio Sapendo che faranno i prossimi episodi Perché magari avrebbe potuto finire così È permesso che Violet venisse rapita Violet è apparsa sollevata Quando tu e Jay siete tornati alla scuola È rimasta delusa Quando hai scelto di trascorrere il tempo con Luis Invece che con lei Si è sentita abbandonata Quando hai permesso che predoni La rapissero Non so Mi sento una merda Che devo fare? È spinto Luis a sentirsi colpevole In pratica come faccio? E faccio Faccio di merda E se sei sentito comportato Quando ti sei scusata Per il dolore causato Gli date E Jay Era sbigottito Quando gli hai confessato Di provare qualcosa Per lui È spinto E Jay A sentirsi pentito E Jay si è sentito meglio Dopo aver dormito con te È rimasto deluso Quando non gli hai permesso Di uccidere Abel Mitch È morto? Mitch era spazientito Quando gli ha intimato Di moderare i termini al funerale Si è irritato Quando hai deciso Di aiutare Ruby A seppellire la vagante Lily si è sentita turbata Ha provato nostalgia Quando si è ricordata Il vostro passato insieme Ha apprezzato Quando hai accettato Il suo aiuto Per alzarti Abel è stato catturato Si è indignato Quando hai ordinato a Violet Risparare a Lily È rimasto sorpreso Quando hai detto a Lily Di prendere te E risparmiare gli altri Ruby si sente riconoscente Si è sentita disagio Quando hai affermato Che tutti erano colpevoli Per quanto è accaduto a Marlo Si è sentita consolata Quando ti sei dimostrata vicina Dopo il ritrovamento Dell'infermiera È spinto Tanna A sentirsi abbattuto Si è incupito Quando hai affermato Che servono nuove regole Si è sentito rincuorato Quando hai ribadito Che l'era dei vaganti Un giorno finirà È spinto James A sentirsi affidabile Si è sentito utile Quando gli hai permesso Di dare la mela a AJ Si è mostrato interessato Quando hai detto di provenire Dalla Georgia Gli altri sono inorriditi Ragazzi Omar è stato rapito Rosy si fida di te Da quando l'hai coccolata Nel cortile Willy era entusiasta Della tua scelta Di usare la trappola Di tronchi Contro Pedro I predoni Assim è stato rapito È raccolto Tre di tre oggetti Nel corso dell'episodio Incredibile Non ci credo nemmeno io Queste sono state Le conseguenze Delle nostre scelte Il terzo episodio Qua dice ragazzi Che uscirà il 6 novembre A questo punto Vista questa questione Della Telltale Non so se effettivamente Uscirà il 6 novembre Magari ritarderà un po' Non lo so Ovviamente ci aggiorneranno Su questa cosa Io mi sento molto Incupita Da quanto è successo Odio dover scegliere Fra due persone Ragazzi Infatti per Violet Mi sento veramente di merda Mi sento di merda Per gli altri Mi sento di merda Per michi Fatemi sapere voi In commento ragazzi Che cosa Avete pensato Di questo episodio Questo video termina qui Grazie a tutti Un bacione Dovadocia a tutti ragazzi Ciao Vi ricordo ragazzi Che se volete Questi aggiornamenti Sul canale Potete trovare Tutti i link Nel mio social In descrizione E anche il link Per farmi delle donazioni Ciao